Difficile se non impossibile che già nelle prossime ore si conosca il futuro della San Giovannese relativamente al deferimento per la posizione di Righeschi. A meno di sorprese infatti la decisione della giustizia federale dovrebbe arrivare la prossima settimana ma l'ambiente, anche se non ufficialmente, appare rassegnato al punto di penalizzazione che dovrebbe essere assegnato visti i precedenti in ambito nazionale. Ciò cambierebbe le attuali carte in tavola in modo importante dato che sulla salvezza diretta a quel punto le lunghezze da recuperare sarebbero due ma con Gavorrano e Colligiana avversari della classifica simile, in questo girone di ritorno mancano entrambi i confronti diretti da giocare, peraltro, tra le mura amiche. A proposito del Fedini, non è trascurabile l'impegno di domenica prossima con il Villabiagio. Gli Umbri sono ad oggi ad otto punti di distacco ed un successo del Marzocco significherebbe allungare alla doppia cifra di vantaggio. Sembra banale ricordarlo ma anche l'ipotesi di salvezza diretta attraverso il margine delle dieci lunghezze non sarebbe poi del tutto trascurabile, anche se il Villabiagio è reduce dal bel pareggio contro il Foligno. Intanto si avvicina un altro giocatore, Matteo Anania, esterno alto di destra a 31 anni, reduce da più esperienze in Lega Pro, l'ultimo delle quali a Perugia potrebbe essere tesserato già nelle prossime ore se sarà trovato l'accordo con il procuratore Michele Bianchini. Per domenica intanto, passando all'infermeria, è recuperato Invernizi che ha smaltito l'influenza mentre Mugelli ritorna dopo la squalifica e Mister Malotti spera di poter disporre anche di Buccianti.